Partite, ecco qua, come vi dicevo, Alice Soccionomo che si metta in comando, controlla, aspetta le sue quattro compagne per vedere di fare il treno, vediamo se le altre permettono di fare questa cosa, ci trovano l'atleta della Repubblica cieca, si la lascia adostare, è anche una scelta giusta, si fa tirare l'atleta di Veseli, l'atleta Vittori, siamo ai meno quattro, vedete che la gara è completamente attendista, tattica, si smanita un po' per riprendere le posizioni, siamo al passaggio dei 500 metri, riparte di nuovo la Soccionomo e cerca di portarsi dietro le sue atlete, Soccionomo, punte basse per tutti, ma è la Soccionomo che si porta dietro le tre compagne per l'azione, ai meno due, si riportano la via su e si tirano, possono fare tripletta, si staccano, le altre atlete dal gruppo, Soccionomo al passaggio di Menomo, Soccionomo, 4-4-5, ultimo giro, ultimo giro, Soccionomo Alice, Soccionomo Alice, e adesso le arrivano, primo, secondo, terzo, 4-4-5, paulenti, 3-20, i portoni,